buonasera a tutti mi presento così col mio bestia mod 21.700 è ovviamente la batteria e la sfc 0.08 coil ottime secondo me aromatici sime e sto per provare il crunch della vapor art mai provato so che un liquido che non è che ormai cioè ha fatto dal suo tempo allora i primi due tiri non vi dico niente perché si deve assembrare il cotone per già vi posso dire che mi sembra molto ma molto buonino allora la descrizione dovrebbe essere il famoso crunch cioccolato cioccolato bianco che rassomiglia ragazzi non è male non è male per niente sento adesso per i primi tiri sento sento diciamo latte sento latte perché sicuramente il cotone ancora si deve assemblare è davvero buono davvero buono sento solo il latte cioè il latte sento la nota di latte che è un cioccolato bianco però ancora una via di mezzo probabilmente perché il cotone ancora è nuovo si deve assemblare adesso lo bagniamo meglio eccolo qua vediamo di cosa ne sa vediamo un po più prende il cotone più liquido si si inizia a sentire veramente veramente buono sento il riso soffiato molto delicatamente e il cioccolato bianco che la prevale la fa la padrona per me è un liquido è un ottimo liquido scusate il fumo male io sinceramente non sono amante il cioccolato bianco insomma di più dei cremosi quelli cioccolato cioccolato al latte il ciocco altri altri tipi altri generi però mi sta veramente conquistando questo liquido è veramente buono si sente moltissimo il cioccolato bianco e quella nota lieve di riso soffiato è veramente un cremoso che io penso che riprenderò come al solito la mia il mio la mia prova di lingua come faccio sempre non mi delude mai quindi io vi dico che secondo me questo liquido è promosso promosso sì io lo promuovo per me davvero buono non è stucchevole non è quel sapore stucchevole di dolce che ti lascia in bocca si sente questo cioccolato bianco e questa lieve nota di riso soffiato che si ammalgano bene nell'insieme è davvero buono davvero 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 molto buono vabbè ragazzi ho fatto questa breve recensione di questo liquido perché ci tenevo a farvelo a farvelo conoscere io anche ci tenevo a conoscerlo perché da quando è uscito non ho avuto mai non ho avuto mai la cosiddetta di provarlo sinceramente perché c'è altri generi di liquidi però adesso che l'ho preso l'ho provato mi sono veramente ricreduto si molto buono ragazzi un saluto a tutti per tutti quelli che mi seguiranno nel mio canale youtube questo è il crunch è promosso a pieni vuoti secondo me non ha un sapore stucchevole è un dolce che ti conquista cioccolato bianco la prevale logicamente con riso soffiato delicato io ve lo consiglio prova superata grazie a tutti